Potrebbe sembrare lo stesso striscione di due settimane fa, tutti in curva sud, ma in realtà il lenzuolo che come prima della gara con il Grassina campeggia al plesso scolastico delle Maggiotti a Montevarchi è nuovo e la curva appunto richiama alla presenza per riempire il settore. Ma proprio anche per non abbassare la tensione dopo la sudata riconquista della vetta e due successi nelle ultime uscite contro le rivali dirette per la prode in eccellenza al Montevarchi Calcio conferma una nuova giornata rosso-blu. Con il Subbiano, vincente 3-2 in zona Cesarini all'andata, è confermato infatti l'ingresso gratuito per tutti gli under 15 ed il biglietto a 5 euro per la curva con abbonamenti validi come per le altre gare dell'anno. Con il Grassina al Botteghino fu superata la quota di 3.500 euro di incasso e sebbene forse il richiamo per l'evento sia minore stavolta l'Aquila vuole soprattutto incitare la squadra a non mollare in vista di quel traguardo chiedendo l'appoggio dell'intero ambiente sportivo e aspettando anche perché no un regalo dalla quarta forza del campionato laterina che ospita il Grassina o dal Chiusi che giocherà in casa contro il Bibbiena.